La partita combattuta nel primo tempo, ma poi inizio secondo tempo ho premuto un attimo sull'acceleratore, abbiamo preso quei due o tre gol di vantaggio per portarla a casa. Una grande soddisfazione questa sera, una grande partita, a merito anche a loro che hanno dimostrato di essere una grande squadra, non peraltro hanno vinto il girone senza mai perdere. Noi stasera eravamo anche in formazione un po' rimaneggiata, però devo dire bravi tutti perché è stata una prova solida di gruppo, abbiamo segnato in tanti e siamo molto contenti di questo risultato. Infatti gli dicevamo fuori anche parlandone che non sembrava una partita over perché ritmo, cambi di gioco, belle giocate. Mi fa piacere che tu lo dica, in campo penso che tu almeno noi stessimo boccheggiando. No vabbè, allora da fuori non lo davate a vedere. No vabbè, indubbiamente è una partita da dentro o fuori per cui c'è comunque un po' di tensione. Però ecco, me la riguarderò volentieri, anzi grazie per questo servizio che ho sempre apprezzato. Ah, in senso poi sarà bissato in finale, visto che adesso c'è la finale. Bene, questo dobbiamo lottare contro la cabala perché in finale abbiamo sempre perso. Vabbè, non dici a niente. Esatto. Giochiamola e poi magari ci vediamo a finale dopo la partita. Grazie. Grazie, alla prossima. Grazie, ciao. Grazie a tutti.